È ripartito il progetto della Guardia di Finanza educazione alla legalità economica, giunto alla sua settima edizione. Il primo incontro di questa nuova avventura ha visto coinvolti gli alunni dell'Istituto Tecnico per Geometri, dell'Istituto Tecnico Industriale, dell'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e dell'Ipsia di Vibo Valencia, che hanno interagito con il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Roberto Prosperi, e con i suoi luogotenenti, Giovanni Suraccio e Francesco Galeano. Il tutto con l'intento di far maturare la consapevolezza del valore della legalità economica, con particolare riferimento alla prevenzione dell'evasione fiscale, allo sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione, nonché dell'uso e dello spaccio di sostanze supefacenti. L'iniziativa, che trae origine da un protocollo d'intesa stipulato fra il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è finalizzata a promuovere, nell'ambito dell'insegnamento, cittadinanza e costituzione, un programma di attività a favore degli studenti della scuola primaria e secondaria, ed è abbinata anche ad un concorso denominato Insieme per la Legalità, che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani tramite il coinvolgimento delle scuole sul valore civile ed educativo della legalità economica, nonché in merito alle attività svolte dal corpo in tali settori, favorendo la loro espressione libera e creativa e spontanea sulla tematica. Questo primo incontro ha anche permesso ai finanzieri di parlare agli studenti delle classi quinte del concorso in atto per l'arruolamento di 66 allievi ufficiali presso l'Accademia della Guardia di Finanza, nonché per trattare, brevemente, della riorganizzazione dei reparti territoriali della Guardia di Finanza, concepita per garantire una più diffusa presenza delle fiamme gialle sul territorio nello svolgimento della mission di Polizia Economica e Finanziaria a tutela del bilancio pubblico nazionale, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione Europea.